I testi critici, curatoriali, introduzioni e via dicendo. In questo senso abbiamo voluto creare un prodotto particolare, perché questa mostra è particolare. È una mostra che va a inserirsi in un contesto architettonico, storico, molto ricco, che ha delle ricadute anche emozionali molto forti. In questo senso si è voluto creare una mostra come un prodotto culturale a sé stante, quindi con l'interazione delle opere, con l'interazione della visione dell'artista, anche con l'interazione del sottoscritto quale curatore, quindi nello strutturare un percorso che fosse veramente un'opera a sé stante. In questo senso anche pensando sia al valore culturale, sia al valore di interazione tra la storia e la contemporaneità, ma soprattutto offrendo un'esperienza ai fruitori, che poi siamo tutti noi. Infatti io penso che lasceremo qualche minuto al termine dell'introduzione per poterla anche visitare, la mostra, perché abbiamo l'occasione di essere di fatto all'interno del libro che stiamo presentando, perché il libro appunto presenta le immagini, oltre che i testi che vanno a corredo di tutto il discorso, di tutto il percorso, ma le immagini del percorso espositivo, quindi della mostra allestita così com'è, di modo che ci sia una storicizzazione non solo del concetto, non solo di quello che è Stamonte, ma di quello che è il vissuto espositivo, quindi di poter rivivere realmente a distanza di tempo quello che è stata tutta la strutturazione espositiva, il percorso espositivo della mostra dedicata a Giovanni Bonardi e alle sue figure auliche. Infatti adesso entriamo proprio nel vivo. Figure auliche che prendono dalla grande esperienza artistica di Giovanni Bonardi, un artista che è realmente contemporaneo per come vive l'arte e per come vuole diffondere l'arte. Infatti avrete modo di vedere durante la visita che ci sono anche delle installazioni che sono installazioni molto partecipative, nelle quali bisogna passare all'interno di questa strutturazione di percorso delle opere, interagendo con esse, creando anche del movimento attraverso proprio semplicemente il nostro passaggio e vedrete che questo allestimento sì è un allestimento naturalmente studiato per essere fatto così, quindi con una certa stabilità, ma anche per essere mutevole, quindi per non essere mai uguale a se stesso e non sarà mai uguale a quello che avrete visto nei minuti precedenti il vostro passaggio. Dove sta il legame con la classicità? Bonardi è un artista che studia profondamente la classicità, vuoi proprio per la propria attività artistica, vuoi anche per il fatto che è un diciamo così un uomo di cultura poliedrico, infatti la sua esperienza artistica spazia sia dalla produzione ma arriva anche a quello che è il restauro, quindi a quella che è la tutela, quindi a veramente avere un rapporto molto stretto, un contatto fisico con quella che è l'opera e la nostra storia, infatti vediamo che le radici della produzione artistica di Giovanni Bonardi affondano profondamente in quello che è il nostro tessuto, il nostro contesto storico artistico. Io infatti partirei proprio con un dialogo con il nostro protagonista proprio relativamente a questo aspetto, a quello del contatto con l'arte storica, con quella che va tutelata, con quella che andrebbe anche rivalorizzata e qui se vogliamo apriamo una parentesi enorme, potremmo occupare tutta la giornata ma non vogliamo farlo. Ecco, la tua produzione artistica rispetto a quello che è la storia, rispetto a quello che è il tuo contatto anche a livello di, possiamo dire, di professionista del restauro, in che termini si influenzano vicendevolmente? Allora mentre parlavi mi veniva in mente che quando abbiamo allestito questa mostra io non ho piantato neanche un chiodo e addirittura c'erano dei ganci di quelle vecchie sculture, quelli vecchi angeli e sui ferri di, diciamo così, di realizzazione degli angeli ho attaccato il mio fil di ferro con notevole difficoltà anche nella sistemazione. E' un percorso, diciamo così, simile perché intanto sono a contatto con diverse opere d'arte soprattutto nelle chiese, di fatti quando vedo il parroco del posto dico io sto in questo posto molti anni più di lei perché effettivamente la mia professione mi fa passare almeno otto ore in una chiesa tutti i giorni e in questo momento sto facendo un lavoro di questo tipo qui. Mi rendo conto che certe volte l'esperienza dei pittori che mi hanno preceduto sui quali io sto lavorando mi aiuta in qualche modo a completare le mie insicurezze o i miei buchi diciamo così artistici e mi aiuta a completarli. Non sempre ma spesso mi sono reso conto anche di questa possibilità che ho avuto di completare il mio percorso artistico grazie alle esperienze fatte dai miei predecessori. Ecco, questo è un arricchimento che noto che ho. Trovo anche che sia importante l'aspetto relativo all'interazione che c'è con l'ambiente che poi diciamo è stato un po' il punto forte dal quale siamo partiti nello strutturare il discorso espositivo. L'hai detto prima non hai piantato un chiodo, non hai voluto uscire da quello che era un contesto già realizzato nel quale tu ti sei inserito e hai voluto in questo modo, questo secondo me è una chiave di lettura molto importante, valorizzare sì la tua opera attraverso il luogo ma allo stesso tempo valorizzare il luogo attraverso la tua opera. Sì, abbiamo trovato queste nicchie vuote perciò l'idea anche di riempirle con delle opere che io avevo già in collezione mia e poi anche qualche piccolo diciamo così intervento magari ironico ecco per esempio la collocazione di una serie di sculture e poi terminare con altre sculture per terra perciò diciamo così occupare questo spazio in maniera diciamo diversa rispetto a come nel passato era utilizzata questa chiesa ecco con delle altre soluzioni. Infatti c'è il rispetto della classicità, c'è una rappresentazione della figura che se vogliamo è molto delicata, molto intensa che qui veramente si vedono le radici nel passato della nostra storia dell'arte però il modo in cui tutto quanto è strutturato, questi panneggi liberi se vogliamo, queste installazioni che mettono insieme pittura, scultura, diverse tecniche sono veramente una parte di estrema contemporaneità. Sì, diciamo che alcune di queste opere nascono, faccio riferimento soprattutto alle ultime che sono i Sette Arcangeli, nascono in un periodo un po' particolare che è quest'ultimo anno di lavoro. I Sette Arcangeli nascono come un ex voto, sono stati realizzati nel mese di marzo e aprile di questo anno e come a volte succede, o meglio come succedeva un po' nel passato, gli artisti venivano incaricati di realizzare delle opere. Queste opere raffiguravano a volte il santo patrono del posto oppure il committente ma in qualche modo ricordavano al santo che quest'opera veniva realizzata perché lui in qualche modo doveva realizzare questa grazia, questo desiderio, questo miracolo che veniva richiesto dal santo. Ecco, in questa operazione, diciamo così, anche di ricerca storica ho voluto raffigurare questi Sette Arcangeli come personaggi, figure che intercedono per noi. Uno di questi particolarmente è l'Arcangelo a cui mi sono rivolto con più passione ed è Raffaele perché nella Bibbia l'Arcangelo Raffaele è indicato come la medicina di Dio ed viene inviato da Dio per guarire. Per cui rispetto a questa pandemia che ci ha colpiti ho voluto fare questo, diciamo, questo intervento ma non solo a nome mio ma a nome di tutti. È un dono che ho fatto a nome di tutti. Questo apre la porta a un altro aspetto peculiare della tua attività che è quello veramente di uno studio approfondito di ciò che vai a toccare, di ciò che vai a trattare sia dal punto di vista di produzione artistica diretta da parte tua sia quando invece vai a intervenire su opere di tuoi colleghi dei tempi passati, diciamo così. In questo senso l'influenza che hanno, vuoi i testi sacri, vuoi i testi a volte mitologici perché vai a lavorare anche magari su affreschi che hanno tematiche che vanno ben prima quella che è l'epoca cristiana o le tematiche religiose della Bibbia. Ecco, in questo senso in che modo riesce ad arricchire l'attività artistica e in che modo riesce ad entrare in sintonia anche con quello che chiamiamolo prodotto, anche se brutto, però poi il risultato. In una di queste opere c'è un omaggio proprio a Cesare Pavese che si chiama Dialoghi con l'Eucò e io ho raffigurato questo personaggio mitologico che è l'Eucò. Quando ho letto questo libro, oramai tantissimi anni fa, mi ero avvicinato a Pavese ma perché lui è stato un filtro per me per avvicinarmi alla mitologia, come ho utilizzato anche altri poeti del passato per avvicinarmi alla mitologia. In qualche modo loro sono un filtro e io su questo filtro elaboro poi le mie opere. Diciamo che c'è questo intervento anche di uno scrittore poeta contemporaneo come Pavese. Una propria interazione, quindi anche attraverso la musica, attraverso il teatro, perché poi insomma le frequentazioni si vanno a sovrapporre, anche in questo senso le tue collaborazioni in passato si sono avute anche con altri esponenti di altre discipline del mondo artistico. Ho scoperto che in fondo la mia piccola biografia termina con un confronto, un paragone con Cesare Pavese legato al santuario di Crea. Il santuario di Crea, oltre a conservare questa immagine che è il simbolo del Monferrato, cioè la Madonna di Crea, ha un percorso fatto di cappelle che rappresentano le scene della vita della Madonna. Io ricordo questi primi incontri con l'arte, quando avevo quattro o cinque anni, perciò sono quelli che hanno anche formato la mia spiritualità e la mia artisticità. L'incontro con queste sculture dentro i Sacrimonti e ho letto su questa piccola biografia che anche Cesare Pavese è di fatti ricordato da una lapide, diciamo così, l'importanza che per entrambi ha avuto il Sacromonte, perciò per me sotto l'aspetto così artistico-religioso, per Pavese per delle altre esperienze. Sì, le sue frequentazioni in Serralunga di Crea, tutte quelle zone, sì sì, c'è un legame insomma, con il Monferrato da cui viene sia Bonardi ma anch'io personalmente sono di quei territori. Ritornerei all'installazione degli Arcangeli, perché anche in questo senso, ecco, diciamo questa è l'opera forse più partecipativa di tutte, in cui ci può essere veramente un contatto, in cui si può essere realmente all'interno dell'opera d'arte e si possono vedere queste figure molto leggere, a volte molto etere, con dei lineamenti delicati, però con una grande forza del gesto artistico che si muovono, sembrano quasi osservarci, però facciamo un discorso proprio durante l'allestimento che, insomma, relativamente agli Arcangeli c'è qualcosa in più rispetto alla visione cattolica. Sì, sì. Allora, sono nati, come dicevo prima, come un ex voto e poi bisogna per forza esibirli. Allora ho fatto la proposta alla direttrice dell'Ufficio Beni Culturale di Casale, Monferrato, e ha subito accettato questa proposta. Sono stati esposti per diversi mesi nei matronei della Cattedrale di Casale. Per chi non la conosce, inviterei a visitarla perché l'atrio della Cattedrale è veramente un gioiello dell'arte romanica, per cui avevano anche una sistemazione più statica, erano sistemati tutti frontalmente. Devo dire che invece Anselmo, forse perché era meno attento a questa sistemazione frontale, ha trovato questa collocazione, diciamo così, più vissuta. E di fatti hanno un altro tipo di raffigurazione e di rappresentazione, perché non hanno più questa, diciamo così, raffigurazione frontale, ma interagiscono con le persone. Effettivamente il fatto che loro sono delle creature senza corpo, purtroppo l'artista in qualche modo deve dare un corpo a queste raffigurazioni e gli dà questo aspetto piuttosto etereo. Per cui anche il percorso artistico, vedendo queste immagini che si muovono e interagiscono con lo spettatore, crea una, diciamo così, atmosfera diversa e nuova di queste opere. Ecco, parlando della figura, quindi tra il tratto e il gesto c'è un contatto molto stretto, no? Perché poi qui parliamo naturalmente anche di scultura. Relativamente appunto alla scultura, dove poi si vedono magari monocromaticità associate invece a punti che sono policromi a volte, a inserimenti in oro nelle opere anche più recenti. In questo senso il gesto può essere considerata da parte tua come una trasmissione di una forza espressiva, di una sorta di anima che viene data all'opera, un po' come può essere il tratto che viene fatto sulla tela. Sì, certo, certo. Mi esprimo con più facilità con materie come la terracotta. Non è l'opera che vediamo qui sotto fatta con una terra della mia zona, ma le altre sculture, tutte le altre sculture che sono nelle cappelle, sono fatte con una terra particolare della zona di Pontestura, della cava di Sant'Agata. Perciò utilizzo proprio una terra del Monferrato, che è una terra più bianca rispetto, diciamo così, alla solita terracotta che noi conosciamo, ed è un materiale che oramai conosco di diversi anni. Il colore è sempre molto così delicato, quasi ricorda una scultura antica, e il segno invece a volte è forte e potente e deviene, in alcuni casi, arricchito con delle invetriature, che sono, diciamo così, gli strumenti che vengono utilizzati anche dagli artigiani. Quando fanno i piatti, l'invetriatura è questo prodotto che rende lucida un manufatto piuttosto che un altro. Ecco, invece la definizione dell'opera, perché vediamo che ci sono nelle tue opere figure molto ben definite, con un tratto molto forte, sia in pittura che in scultura, e invece altre che sono molto più etere, molto più lasciate, forse alla fantasia di chi va a rapportarsi con l'opera, e quindi lui con la sua mente deve andare a completare questi lineamenti, no? Per esempio, in questo senso qual è il tuo percorso per arrivare a questo? Sì, in genere non porto a compimento l'opera, anche per un fatto, diciamo così, estetico, una completazione, un completamento esagerato, esasperato, rende un po' troppo banale l'immagine e in più troppo accademica, per cui quando sento che l'opera, secondo me, è terminata, ecco, la lascio così in sospeso. Ma sia per la scultura, sia per la pittura, sia per il disegno soprattutto. Le ultime opere sono molto vicine al disegno, e mi ispiro anche molto alle opere dei maestri del passato, proprio per questa immediatezza, che invece la pittura a volte non ha, perché è necessario un maggior lavoro nella pittura per poterla portare a compimento, mentre il disegno ha una freschezza che è inimitabile. Quindi c'è una sorta di interazione poi con quello che è il pubblico, con quelli che sono i fruitori, non vuoi che sia tutto detto da parte tua, vuoi che ci sia anche un apporto da parte di chi guarda. E poi è il concetto un po' dell'arte contemporanea, che deve essere lo stesso fruitore a partecipare alla costruzione dell'opera d'arte, alla costruzione di una visione. Un'altra domanda che volevo farti, perché poi è una curiosità che scaturisce molto spesso quando qualcuno si rapporta alle tue opere. Hai un faro nella storia dell'arte, un personaggio che particolarmente ti ha dato un input per praticare la tua arte in questo modo? Oppure sono tutti piccoli tasselli di un grande mosaico e non ce n'è uno più rilevante degli altri? Sì, ci sono stati degli amori e in qualche modo certi amori passano, ecco non so come definire la cosa. Mi ne rendo conto perché certi libri che utilizzavo per vedere le opere degli artisti sono finiti in un'altra stanza. Un tempo invece avevo sempre davanti queste opere, per cui è un passaggio graduale. In questo momento, come dicevo, sono più le opere dei disegnatori o di tutti gli artisti del passato che disegnavano. Questi li trovo molto stimolanti come aiuto. Benissimo. Allora, poi tra l'altro, non si dice mai, però il mestiere dell'artista è anche un mestiere pericoloso, tra virgolette, no? A parte quando si fanno gli allestimenti a quattro metri e mezzo da terra, senza che nessuno veda perché non si possono neanche dire certe cose, però anche la tua passione per una certa tipologia di opere, come per esempio la realizzazione di queste figure distese, nascono da un piccolo incidente, se vogliamo. Questo è un aneddoto simpatico. Lo raccontiamo. Uno immagina che un'opera nasca anche in maniera così, come possono avvenire le ispirazioni, perciò un'immagine che arriva dall'alto e l'artista la crea. In questo caso mi trovavo all'Aquila, purtroppo dopo il terremoto, a visitare le chiese, invitato con un gruppo di restauratori e muovendomi tra questi cumuli di maceria, come queste opere d'arte abbandonate, cercando di sistemarle, inciampo in una pietra tombale di un vescovo e metto il piede nella piega delle braccia e quasi cado. Ecco, da questo... Un gambetto a distanza di secoli questo. Un povero vescovo a cui ho detto poi una piccola preghiera per averlo offeso, ma questo è stato lo stimolo per creare queste figure distese. Ecco, ne ho fatte diverse. Questa qui è già più in piedi, quell'altra era una figura così molto piatta, però c'è stata questa ispirazione nata da questo tipo di piccolo episodio. Bene, io direi, visto che i tempi sono contingentati, che possiamo chiudere il nostro discorso. Non so se tra il pubblico c'è qualcuno che abbia voglia di intervenire, altrimenti io penso che sia molto utile realmente, in questo senso dopo che abbiamo parlato del libro, dopo che abbiamo parlato della mostra, anche visitarla, la mostra. Abbiamo la fortuna di essere qui, come dicevo prima, all'interno del libro, però il libro è la mostra stessa. Quindi in questo senso io ci tengo naturalmente a ringraziarvi per l'attenzione, per aver partecipato oggi, rinnovo ringraziamento alla Fondazione Cesare Pavese per questa importante opportunità e vi auguro buona visita sicuramente. Ringrazio naturalmente l'artista, perché senza le sue opere tutto questo non sarebbe stato possibile e buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.